No, ecco, io non posso partire perché parto con lo scuro. E qui hanno quell'abitudine di punti, li mettono a iniziare. Questa è pure qui, eh? Si spavola di qui, eh? Si può, si può. È tutto un po' presto. La tua più anzi andrà bene. Uno c'è. 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 Uno c'è.